Non sono ancora chiare le condizioni del settantenne maschalese rimasto coinvolto questa mattina in un incidente nell'incrocio tra le vie Siculo-Orientale e Crispi a Mas. Erano da poco passate le 9 quando, secondo una prima ricostruzione compiuta dagli agenti della locale polizia municipale, intervenuti prontamente sul posto, l'anziano che stava attraversando a piedi dalla marcia a piede contiguo alla villa, la via Siculo-Orientale è finito per cause ancora in corso di accertamento contro lo sportello di un'automobile che svoltava dalla via Crispi verso la statale in direzione Messina. Il settantenne, in seguito all'impatto, sarebbe caduto rovinosamente sull'asfalto. Alla guida dell'auto un uomo di Mascali che si è prontamente fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo nel vicino presidio ospedaliero Santisidoro di Giarre, dove si troverebbe tuttora in attesa di essere sottoposto a radiografie ed altri esami. Il settantenne, tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.